Salve a tutti, è GiaSemp che vi parla E oggi siamo qui per il secondo episodio della serie Minecraft Hardcore Hardcore Allora se ricordate eravamo in questo buco Giusto per la notte Ma sicuramente è ancora notte Adesso lo vedremo subito Infatti è ancora notte Quindi cosa faremo? Che io sono un deficiente Noi abbiamo la lana E facciamo il letto Voilà Non tanto per lo spawn perché se crepiamo Crepiamo basta Ma perché per far passare la notte Allora lo mettiamo qui E notte, notte, notte Voilà Buongiorno Qui possiamo rompere Tanto Non ce ne frega Poi ci portiamo tutto E per quanto riguarda la casa Grazie per chi mi ha consigliato Per chi ne avete consigliato Un paio di voi me ne avete consigliato Quindi ringrazio tutti coloro che mi hanno seguito E quindi mi hanno risposto Tutte le idee che mi hanno dato Chi ha detto Un bunker Chi ha detto Sopra l'acqua Chi sopra la giungla E sono davvero delle bellissime idee Tutte e tre Non 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 Tutte e tre bellissime idee Però Forse è un'idea io Proprio per non Proprio per far Vedere una cosa nuova Giusto per vedere una cosa nuova Allora La mia idea Era quella di costruire In una montagna Però Dove sono le montagne? Qui? Non lo so Adesso dobbiamo andare un po' In cerca di montagne Nel frattempo Ne prendiamo Un po' di cose Allora Quindi Prendiamo tutti Un slime Ok Prendiamo già Le palle di slime Possono servirci E voilà Già abbiamo un po' di slime Qui abbiamo un po' Di argilla Che ci acchiappiamo subito Ok Ma in cazzo normale Bisogna prendere Tutto quello che Si vede intorno Io prenderò tutto Voilà Non posso sicurare più tempo Però Me ne frega Andiamoci Allora Gira che c'è qua dentro E basta dai Ci serve La troviamo Un pollo Oddio che luck Un pollo Yeah Ma nel frattempo Rombiamo un po' Così facciamo un paio di semi Vediamo quanti semi abbiamo 13 Così faremo le piantagioni Che fidata Vorrevo trovare un villaggio Onestamente Perché volevo prendere anche Delle carote Delle patate Oddio Uno scheletro Adesso ragazzi Finirà la serie Per colpa di uno scheletro No scherzo Allora C'è dato solo delle fricce Volevo Un osso Così Acchiappavia Comunque avete capito Un cane Allora Un cane Un cane Uh quanti ferelli Ci servono pericolanti Prendiamo tutto Polli Quanti polli Voilà Et voilà Voilà Ci serviranno anche le piume Quindi Voilà E anche l'esperienza Soprattutto Già ne abbiamo 30 esperienza Adesso dobbiamo trovare Solo Un bel posto Dove costruire Incominceremo a costruire C'è un bel posto C'è quella montagna Che dicevo io Se mi viene come Dico io Poi mi dite Sei una figata Dai Allora Uh Qui c'è una caverna Però Qui è un peccato Questa caverna È un peccato Però Questi animali Meglio sprecare Quello di voi Il polo non l'ho preso Voilà E qui ho solo palude Dappertutto Uh Cane da zucchero Cane da zucchero Scusate Maledetto Raffreddore Allora Qui c'è solo sabbia O li farò proprio Come ha consigliato uno Vicino l'acqua Che abbiamo anche la caverna Sì dai La facciamo qui La casetta La facciamo qui Allora La facciamo Giusto qui Dai Abbiamo anche il laghetto O in oceano O in oceano O in oceano Vediamo una cosa Il sole Ok dove devi girare Adesso il sole Va bene Non lo so Comunque dove Dove vada vada Io comunque Faccio due facciate Allora Prima cosa Tavolo 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 A terra Poi 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 Volevo fare Il fatto della montagna Però Adesso Che cazzo sto facendo Non la trovo Una montagna Quindi Non fa niente Allora Però aspettate Volevo fare un'altra cosa Facciamo delle Slab 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 E Abbiamo detto Di qua Giusto Guarda Facciamolo di qua Vicino all'oceano Abbiamo un po' di terra Sì Copriamo un po' qui Lo copriamo qui E Facciamo in questo modo Un ingresso tipo così Che va salendo Pian piano Quindi facciamo Tutti i slab Solo che Sono un deficiente Perché Questo tipo di legno Non ce l'ho Faremo Due tipi di legno Diverso Quindi Prendiamo subito Un po' di legno Ok scusate Comunque dicevo Comunque dicevo No sono troppi Così Amoli Voilà E voilà Ci bastano dai Allora 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 Sessantatanti sono Ah ah Infatti sono un deficiente Perché io Devo farli Devo farli Aspettate C'è una bella C'è una bella cosa C'è una bella cosa Allora Mettiamo una cesta qui Mettiamo tutto dentro Tanto da qui Non ce ne andiamo Adesso riprenderò tutto Non vi preoccupate C'è tutto quello che mi serve Allora Quindi Ci servirà Legno Assolutamente Legno E possiamo usare Questi qui Voilà Spada sempre in mano Perché Siamo in hardcore Poi Dobbiamo fare altri di questi Ok ho fatto un bussante Lasciamo stare E poi No Aspettate Dobbiamo Allora per farlo Infatti così Voilà No che voilà Sì vabbè Così Voilà 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 Poi prendiamo 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 Uno di questi No Deficienti che non sono altro Vabbè Lasciamolo a terra Abbiamo questi Voilà Ragazzo Progettando tutto adesso Non è che Non è che già lo sapevo Lo sto facendo Momentaneamente Allora E io così Lo volevo infatti Così subito facevamo Però non fa niente Dai Allora 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 No Vabbè domani Domani A quest'ora A quest'ora A quest'ora A quest'ora Voilà Prendiamoci di nuovo Il legno Anche se qui Copriremo Prendiamoci di nuovo Il legno E secondo me Se facciamo così Ci andrà bene Voilà 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 Ok Qui adesso Facciamo Normale Che sta avvenendo La notte Lo so Quindi aspettate un attimo Per la notte Per la notte Oddio Quanti Quanti mele Bene bene Allora Per la notte Per la notte Cosa faremo Per la notte Allora Visto che abbiamo Questo legno Ci accamperemo Un attimo In questa piccola In questo piccolo rifugio Dove metteremo Delle torce Perché adesso Farà buio Metteremo Delle torce In questo modo Raga Meglio stare dentro Quanto Quando È notte Anzi Non mi copro tutto Perché tanto Dobbiamo mettere Solo il letto Ti pareva che il letto Ce l'avevo di là Comunque Dicevo Mettiamo solo il letto In questo modo Dormiamo Velocemente E poi riprendo Alle costruzioni Allora In questo modo Voilà Speriamo che non Mi colpisce Nessun ragno E Buongiorno a tutti Allora Questo lo rimaniamo Per sicurezza Che si avviene di nuovo Notte Però non credo Perché tanto Dobbiamo finire Per oggi Finiremo Credo Allarghiamo un po' qui Allarghiamo un po' qui Voilà Qui possiamo congiungere Poi Perché qui Dobbiamo fare Tipo Una Un aspettato un attimo Ok Scusate l'interruzione Allora Dicevo Dicevo Così Così Voilà 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 Allora Allora Poi Volevo fare Volevo fare Aspetta Facciamo un altro Facciamo un altro piano Così Anzi no Così In questo modo E poi Facevamo la casa Dai Allora Quindi Questo modo qui Voilà E E E E E Visto che Dobbiamo farla Dobbiamo farla Aspetta Tate Allora Non ho più pallida idea Aspetta un attimo Allora 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 Et voilà Allora Ho fatto più o meno La piattaforma La casa Le due porte verranno Così Voilà Anzi Anzi Già Le incomincio a fare Guarda Voilà E questa è la nostra Entrata Diciamo Poi 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 Allora 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 Quindi facciamo un attimo Così Qui siamo in acqua Quindi siamo al sicuro Credo Dormirò un attimo Ah oh Dormirò un attimo Voilà E Ragazzi Non è che sta avvenendo un granché Però Sono poco Fantasioso Quindi faccio schifo Allora Dicevo Dicevo Prima che si rompe qui Ho fatto tipo un'entrata così Che poi metterò Le finestre Quindi Verrà sicuramente più carino Verrà più carino Ma devo fare Devo fare Un po' di Un'ascia 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 Vediamo se abbiamo un po' di legno Certo che ce l'abbiamo Però è poco Allora La spada ce la teniamo subito Che ci serve Poi Facciamo In questo modo Qui E E vado a fare un po' di Legno Perché poi A parte che devo fare un po' più lungo là Un po' più lungo là Quindi È un casino Ragazzi è un casino Allora Facciamo un po' di legno Un altro Ho fatto un po' di legno Ragazzi Io adesso L'ho fatta così Poi se voi Vi dire un po' come Correggerla Non è che è venuto A chissà che casa Però Io così Cioè Non sono così creativo Però Più o meno Allora Allora un po' di legno L'abbiamo fatto Maimento Perché il legno Non ci basta Poi lo andremo a prendere Allora Qui facciamo un altro poco largo Quindi tipo 4 Così Facciamo tipo 4 Ma niente Come dicevo Facciamo un altro Un altro strato Perché ci servirà Ci servirà Ci servirà un altro strato E direi subito Cavolo Facciamo una cosa carina Andiamo di qui In questo modo Di qua 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 E direi che possiamo Terminare anche qui Quest'altro episodio Io adesso Abbatterò tutto qui Mi prenderò La cassa Anzi adesso Lo farò con voi La cassa Così ce la portiamo dentro Poi faremo Faremo Questo lo possiamo lasciare Questo lo possiamo lasciare Allora Dicevo Faremo Aspettate un attimo Voilà Cosa possiamo Buttare Cosa possiamo Buttare Cosa possiamo Buttare Questo Voilà Allora Dicevo Poi Finiremo Di farla Abbiamo una bella casa Bella larga Anche se la volevo Un po' più larga Però Non fa niente Allora Allora Qui poseremo Un attimo tutto Poi li smisteremo Quindi non vi preoccupate Smisteremo un po' Cibo Materiali Eccetera E Direi che Anche per questo episodio È tutto Allora Lo so La casa non è che è venuto Un cranché Forse perché dobbiamo Vedere la prima finita Con le finestre Oppure mettendo qualcosa Per decorarla Anzi Datemi un consiglio E quindi Direi Che da 10m è tutto Alzate i pollici Logicamente Se vi fa piacere Ciao a tutti